Buonasera a tutti, eccoci con la prima pillola di giornata dedicata a Leonardo, ma prima di iniziare vorrei ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale, la nostra community sta crescendo tantissimo in poco tempo, come sapete mi farebbe piacere continuasse in questo percorso di crescita e diventasse un punto di riferimento per gli investitori sul mercato azionario italiano. Vorrei che anche voi interagiste con me scrivendo nei commenti cosa pensate dei video che vengono pubblicati, se avete anche un'opinione divergente dalla mia, siamo in democrazia e non pretendo di avere io la pietra a filosofare, ma l'interazione è molto importante per un processo di crescita, quindi condividete questi video se lo ritenete opportuno, mettete mi piace, chi non l'ha ancora fatto si iscriva e magari inviti anche degli amici a iscriversi perché questo è uno dei pochi canali che vengono gestiti da un trader professionista. Mi raccomando non andate via dopo questo video perché dopo Leonardo pubblicherò anche la pillola su Sogefi, ma ho in serbo una sorpresa per voi con un tema molto interessante che però non ho mai trattato e viene spesso sottovalutato quando invece in un contesto di mercato come questo va tenuto in grande considerazione, per cui il terzo video della giornata, poi quello sul Fuzimib lo faremo domani, cercherò probabilmente un nuovo format, parlerò solo dei titoli che si sono realmente mossi, che hanno dato spunti interessanti e domani comunque farò altre pilole per cui magari scrivetemi nei commenti che cosa vorreste che io analizzassi. Ma non perdiamo ulteriormente tempo e iniziamo con l'analisi di Leonardo, vi condivido lo schermo. Leonardo oggi ha dato un ottimo segnale perché è arrivata sostanzialmente a target, se riascoltate il video sull'analisi del Fuzimib di ieri dicevo che il target poteva essere tra 7,86 e 7,89, oggi ha fatto 7,86 e 2 che è anche praticamente il livello della media mobile a 50. Il target per la settimana prossima naturale è il massimo del 23 di settembre che è 8,152 e poi abbiamo questi massimi 8,22 e 8,22,6 quindi fin lì ci può arrivare tranquillamente. Cosa è successo su Leonardo? Leonardo se prendiamo un grafico settimanale ha sicuramente avuto un andamento molto gratificante per i propri azionisti a partire dallo scoppio della guerra perché il titolo valeva poco più di 6 Euro ed è andato fino quasi a 11, ha fatto un massimo a 10,895 nella seconda settimana di giugno. Vi ho nel frattempo passato il time frame settimanale perché si vede un po' meglio. L'aspetto più importante è la chiusura del gap che aveva lasciato aperto a 6,996 e pur essendo andato sotto a 6,912 tornando sul grafico giornaliero noteremo che comunque ha chiuso anche nella seduta con la peggior chiusura di periodo quella del 12 di ottobre a 7,018 per cui lo stop non sarebbe dovuto comunque scattare. La seduta successiva ha fatto Candela Inside ma il segnale lo ha dato in realtà il 18 di ottobre con la rottura di questa trendline ribassista. Confermato poi il giorno dopo e adesso ovviamente siamo in una ritrovata forza che può portare appunto fino a 8,226. Questo è il target diciamo minimo del movimento. Se vogliamo essere più ambiziosi abbiamo un gap da chiudere a 8,476 e la media mobile a 200 è 8,626. Come si gestisce una posizione su Leonardo per chi è entrato sul titolo per chi detiene già il titolo? Ovviamente adesso lo si mantiene. Anche se questo è un mercato dove è opportuno portare a casa anche un piccolo profitto, il mio suggerimento che come sapete io non posso dirvi fate in questo modo ma posso dirvi come gestirei io la posizione avessi Leonardo in portafoglio applicherei uno stop profit sotto il massimo di ieri che è 7,602. Questo è un accorgimento che farei alla chiusura di oggi. Poi logicamente se lunedì mi va ulteriormente a rialzo e mi va a testare 8,15,2 a maggior ragione mantengo la posizione e metto uno stop sotto 7,862 perché è massimo di oggi e livello più o meno della media mobile a 50. Ovviamente chi è fuori dal titolo sinceramente io non amo comprare forza l'ho sempre detto e aspetterei probabilmente un test o sul minimo di ieri o sul minimo di giovedì che è 7,35,2 però non bisogna aver fretta a ricomprare un titolo che magari ritraccia dopo un mini rally di breve periodo per cui adesso chi è rimasto fuori si limiti a osservare e rientri magari su un ritracciamento chi ha il titolo invece mantenga perché sembra che finalmente se non le soddisfazioni che ha dato il titolo allo scopio della guerra però può sicuramente tornare Leonardo a livelli più consoni e magari strappare ancora rialzo per qualche seduta. Adesso pazientate poco tempo perché tra poco caricherò la pillola su Sogefi che però vedrà anche un'analisi del bilancio perché oggi è uscita la trimestrale per cui appena esce una trimestrale se è una pillola comincio dall'analisi fondamentale e poi mi sposto all'analisi tecnica. A tra poco!